La fine di un grande amore che porta alla conclusione di un matrimonio dà delle conseguenze dolorose non soltanto nelle coppie comuni ma anche nei casi in cui i due ex coniugi sono due degli attori più amati di tutto il mondo, sia come personaggi a sé che come coppia. Sto parlando di Brett P e Angelina Jolie. Fu Angelina che in seguito ad una lite che era scoppiata nel 2019 mentre insieme a Brett stavano viaggiando con un jet privato diretto in Francia a portare alla fine della loro storia. L'attore poco dopo la fine del matrimonio aveva confessato i suoi problemi con l'alcol, la disintossicazione e la voglia di ricominciare ma Jolie non sembrava assolutamente disposta e non lo è neanche ancora a concedergli un'altra possibilità. Purtroppo la guerra tra loro continua ancora oggi e tutto questo in merita all'affidamento dei figli. L'attrice è molto delusa per la scelta del tribunale di concedere la custodia congiunta agli ex. Da una parte la vittoria per Brett e quindi una sconfitta per Angelina che non ha assolutamente nessuna intenzione di arrendersi. Secondo il team legale che segue la diva di Hollywood sembra che il giudice abbia negato alla signora Jolie un processo equo escludendo impropriamente le sue prove rilevanti per la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini. Prove fondamentali per sostenere la sua versione dei fatti. La Jolie infatti avrebbe voluto che i bambini fossero chiamati a testimoniare e si è lamentata per la scelta invece che il giudice ha fatto rifiutando la sua richiesta. Vi ricordo che i sei figli della coppia hanno rispettivamente Mandox 19 anni, Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14 e le gemelle Nox e Vivienne 12. Secondo invece l'ordinanza del giudice, la testimonianza della Jolie mancava di credibilità in molti punti importanti e l'ordine di custodia esistente tra le parti deve essere modificato su richiesta del signor Pitt, nel migliore interesse dei bambini. La decisione è basata su ampie testimonianze di persone che hanno trascorso del tempo con i bambini e di professionisti molto rispettati. Quello che ritengo dal punto di vista personale è che anche se si tratta di minorenni sono ormai grandi perché comunque da 17-16 fino ad arrivare a 12 anni qui sono ragazzi, comunque ragazzine che sono in grado assolutamente di dire quello che preferiscono e quindi io invece sono contro il giudice perché ritengo che non si sia avvalso di tutti i modi per poter prendere la decisione più equa e più che altro per salvaguardare veramente i diritti di questi ragazzi. Al di là del fatto che anche il padre è giusto e abbia rapporti con i figli, talvolta il fatto di avere un affidamento congiunto può portare ulteriori scontri tra la coppia di ex coniugi e questo soltanto ai fini di dare dei danni ai ragazzi. Troppo spesso infatti i ragazzi vengono messi in secondo piano e non è vero che sono tutelati dalla legge, questo non accade neanche in Italia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a iscrivervi al canale se avete trovato contenuti interessanti. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio per l'ascolto.